proprosti all'occhio sto attualmente 2 perché la imparare proprio per la vita bentornati ragazzi del mio canale come se mi seguire mi sono cinque oggi siamo sulla mappa come se mi sono sul terzo episodio della mappa block rider livello 14 dobbiamo cercare di andare sul check point quindi facciamo così senza morire senza morire ho detto invece sono morto sono morto aspettate aspettate oddio zuca tu cazzo no cosa arriva si 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 ok livello 15 quello del checkpoint fino al checkpoint non arrivano i blocchi che bastardo oh te oh te oh what the fuck what the fuck oh ma che stronzata è? che cazzo è? oh te oddio ce l'ho fatto si 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 no era su quel cazzo di czecchi point eh no cosi però seee che bastardo che sto qua roba pam 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 no no ah cos'è? ah sta il jump oddio che è? sta con questo pezzo qua è fattibile qui no 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 stavo combinando la cosa ragà non lo so non lo so stavo combinando si vabbè sta proprio al centro no siiii no ma vaffanculo andiamo qua non ho detto che non ho detto di morire no no è fattibile è fattibile non ho detto di morire ok no no è fattibile è fattibile Ok. Checkpoint. Raga, non so, guarda, dove mi porta sto facendo. Oddio. Siii! Vai, vai, vai. L'evo 18. Non so cosa sia quello davanti a me, mandiamoci. Ok. Un telepoco. No, merda. No, è poco. Non arriva Sì Ok Sì Cristo Dio Sì Ok 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 Siamo arrivati a 19 Quasi quasi finiti Ok Siamo qua sopra Poi siamo qua C'è che poi Non mi non mi cazzo Ok bravissimo E no perché non corre Ecco perché non volevo fa Ma per poco Ma perché Io ti taglio le gambine Per Dio Per poco Per poco Ma perché ogni volta Quel pedino non te lo tagli Non l'ho toccato raga Ma ogni volta S'andai Cristo di volta Ma non lo tocco Quel cazzo Ma non lo tocco Il blocco russo Io non Cioè Cish Ma non lo tocco Il blocco rosso Ma che cazzo C'è Ragà 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 Porca Ma ce l'ho fatta Vaffanculo Dio Va bene così raga Siamo arrivati a Livello 20 Quasi finito Mi invito a lasciare Un like al video Scriverai nei commenti Se vi è piaciuto questo video E va bene ragazzi Dai Italian Gamers 95 È tutto Ciao a tutti